Il ruolo svolto nelle indagini per la cattura dei brigatisti responsabili degli omicidi d'Antonio e Biaggi è forse il fiore all'occhiello della carriera di Franco Gabrielli, capo della polizia e neo-sottosegretario con delega ai servizi segreti. All'epoca dei fatti, nel 2001, Gabrielli era dirigente della Digos Romana. Quelle indagini gli valsero la promozione a dirigente superiore della polizia di Stato. E nel 2006 viene chiamato a dirigere il SISDE, il servizio segreto italiano. Tre anni dopo, nell'aprile 2009, all'indomani del sisma che ha devastato il capoluogo abruzzese, viene nominato prefetto dell'Aquila e vicecommissario vicario per l'emergenza terremoto. Poi la nomina capo dipartimento della protezione civile, gestendo l'emergenza del sisma nella pianura padana e le procedure per il recupero e la messa in sicurezza della costa Concordia, dopo il naufragio dell'inverno 2012. Ma non è soltanto intelligence. Gabrielli sarà a Palazzo Chigi anche nella veste di consigliere del Presidente del Consiglio sui problemi della sicurezza per affrontare i rischi di nuove tensioni sociali in tempi di Covid. Rischi che lo stesso Gabrielli aveva sottolineato nel messaggio rivolto alla nota di Capodanno agli agenti dalla sala operativa della Questura. Con una postilla. Nei controlli che saremmo chiamati a svolgere, concludeva Gabrielli via radio, ci vorrà sempre umanità.